Abbiamo un quadro di scenografia originale di Marco Tentici Scenografi, premi. Davide Donatello, una strada reggente, una strada reggente, check door, capito da dormo, la chiave di venice. L'ora di pelicciare. L'ora di pelicciare. L'ora di pelicciare. L'ora di pelicciare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.